Graziella Marino della New Trade, sempre della Valsinello qui a Gissi, solidarietà anche per i dipendenti della Silda Invest SPA, sempre di Gissi, un'azienda dove c'è il presidio ormai da diversi giorni, anche questa notte 30 persone sono rimaste qui per evitare che la proprietà potesse portare via sia la merce del magazzino ma anche le attrezzature. Sì, qui si presidia giorno e notte, noi siamo quelli capitati nella New Trade ma comunque siamo ex opera i Golden Lady, noi eravamo 380, ci siamo divisi nelle due aziende e comunque veniamo a sostenere i nostri colleghi perché qui purtroppo è stata tutta una truffa, da noi i licenziamenti sono cominciati dopo due giorni anche perché questi signori sono venuti a chiudere la Golden Lady. Noi siamo stati assunti, ci hanno fatto anche fare un periodo di prova di un mese, poi ci hanno comunque accompagnato alla porta, a noi addirittura licenziati in massa subito dopo Natale, è stato un bel regalo di Natale. Qui alla Silda praticamente dicono che tutto a causa di questo taglio dell'on the job non hanno la forza per andare avanti e quindi hanno licenziato tutti in massa adesso l'11 di luglio. Noi stiamo cercando in qualche modo di dare una mano a loro e non far svuotare il capannone perché svuotarlo vuol dire perdere ancora una volta. Lì dentro c'è il nostro sudore, il nostro lavoro ed è l'unica garanzia per avere anche gli stipendi. I politici che hanno fatto tante promesse in questi mesi adesso che cosa hanno detto? Sono venuti dicendo che comunque non si aspettavano una situazione del genere, non pensavano che l'evolversi di questa vertenza fosse questa. Il problema è che a monte sono mancate delle garanzie a noi lavoratori, non sono stati messi giusti paletti, anche dall'altra parte noi non sappiamo cosa prevede l'accordo stipulato tra Golden Lady e la New Trade. Loro praticamente hanno fatto un accordo e noi non sappiamo ancora che tipo di accordo, se hanno legato noi persone al capannone. Noi abbiamo lottato per avere un posto di lavoro e ci ritroviamo in mobilità.